Sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla viabilità in costiera amalfitana, il distacco di un blocco di un costone incompende sulla strada statale che ha reso necessaria la chiusura di un tratto di strada tra Piano di Sorrento e Positano nella serata di ieri. Non possiamo permetterci di avere la amalfitana chiusa il 18 giugno, ha detto il presidente della conferenza dei sindaci, fortunato della Monica, in costante contatto con Anas dopo i sopralluoghi della mattinata per riuscire a limitare i disagi per turisti e residenti. Da ieri pomeriggi che è stato chiuso in base all'ordinanza dell'Anas, sono in stretto contatto con il vice governatore della regione Campania, con il consigliere delegato onorevole Cascone, ma soprattutto con il direttore generale Italo Giuliva che ci siamo sentiti pochi secondi fa, sta in atto un sopralluogo e naturalmente ho chiesto con forza di fare immediatamente una sommorgenza, di trovare le risorse necessarie perché il 18 giugno non ci possiamo permettere di chiudere la costiera Marfilana ma anche la penese Sorrendina perché veramente ci sono dei disagi enormi sia da un punto di vista dei turisti ma soprattutto anche da un punto di vista della viabilità per i residenti. Ho chiesto almeno di aprire una carreggiata, naturalmente mettendo in sicurezza perché è caduto un masso, diciamo, una certa portata, quindi dobbiamo mettere in sicurezza il costone reccioso. Intanto l'attenzione sulla viabilità e più in generale per la sicurezza sarà alta anche in occasione della festa di San Pietro a Cetara del prossimo sabato 29 giugno. Ho chiesto di, come saranno fatte gli anni passati, di applicare le norme di risurrezione più rigide possibile, nel senso della chiusura della strada che si aiuterà tra le 20.30 alle 21, bisogna ancora stabilire un orario preciso a Vieti sul mare e Maiori. Tra la fermata che renderà ogni mezz'ora dalle 18.30 alla piazza della Concordia il servizio via mare. Il costo del biglietto costerà andate e ritorno 20 euro e poi c'è l'ultima corsa che si farà alle 11 che costa di 15 euro in cui prenderanno l'ultimo viaggio le persone a Salerno e si godanno i fuochi sulla barca, non scenderanno proprio a terra. Quindi chi vuole godersi solo i fuochi e non venire a passeggiare e a cedare possono prendere l'ultima corsa. Abbiamo stabilito un limite massimo che può portare le vie del mare, però con onestà sono in attesa inizio settimana di fare una riunione definitiva, ma si è parlato sui 4.500 persone massime che possono arrivare con le vie del mare.